Ridurre e trasformare i rifiuti generati dalle aziende del distretto conciario in risorse da utilizzare. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato a Firenze fra il presidente della regione toscana Enrico Rossi, il consorzio conciatori di Ponti a Egole e Rea Impianti. Il protocollo impegna i conciatori a fare investimenti nei prossimi tre anni per realizzare un impianto di cogenerazione, un impianto di teleriscaldamento e un impianto di digestione e codigestione anaerobica alimentati dai fanghi conciari. Un messaggio importante al comparto conciario della Toscana perché viene messo nero su bianco ciò che faranno i conciatori per chiudere l'economia circolare. È un percorso lungo però con forti investimenti ma arriverà al punto che il comparto conciario toscano non avrà più uso delle discariche. Nel frattempo, mentre loro si impegnano in maniera precisa ad effettuare questi investimenti, la regione toscana ha favorito il raccordo con la discarica dello scapigliato per consentire che in questa fase intermedia loro abbiano certezza di dove smaltire ma nel frattempo si lavori per ridurre il materiale da smaltire, per ridurre i rifiuti e promuovere invece l'economia circolare, cioè il riutilizzo di tutto quello che oggi è materiale di scarto e che invece può diventare materia seconda. Il consorzio conciatore di Ponte Egola riunisce 60 concerie specializzate. Nel distretto conciario di Santa Croce sono presenti circa 500 aziende con 6.000 addetti.